Un posto al sole spoiler maggio, Diego diviso tra Ida e Raffaele. Diego si troverà diviso tra Ida e Raffaele nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda a maggio. Roberto Ferri inizierà una guerra contro il condominio che ha deciso di non licenziare Raffaele nonostante l'aggressione. L'umore del portiere sarà molto preoccupante e Diego sarà continuamente pressato da Roberto, tanto che inizierà a mettere in discussione il suo appoggio a Ida per la serenità di tutti. La strategia di Roberto non funzionerà con i condomini nelle prossime puntate di Un posto al sole. Roberto sfrutterà a suo vantaggio l'aggressione di Raffaele nei suoi confronti. Nonostante sia stato provocato, il portiere è arrivato alle mani con Ferri che presto coglierà l'occasione per vendicarsi di lui. Roberto accuserà un dolore al polso dopo lo scontro con Raffaele e deciderà di procedere contro di lui. Gli abitanti di Palazzo Paiadini saranno convocati in una riunione urgente per decidere il destino di Raffaele. Nonostante la difficile situazione, nessuno abbandonerà Giordano nel momento del bisogno e alla fine i condomini bloccheranno il suo licenziamento, ma la questione non si chiuderà qui. Roberto, infatti, continuerà a cercare vendetta e non sarà sereno fino a quando non vedrà Diego e suo padre arrendersi. Sfruttando il suo scontro con il portiere, infatti, Ferri spererà di spaventare Giordano per la questione che riguarda il piccolo Tommaso e far desistere Ida dal proseguire la sua battaglia legale per riavere il bambino. L'accanimento di Roberto verso Giordano Roberto deciderà di procedere legalmente contro il condominio di Palazzo Paiadini che non ha voluto appoggiarlo nonostante l'evidente danno subito. Raffaele, invece, sarà sempre più demoralizzato nonostante i suoi amici abbiamo votato per salvare il suo posto di lavoro. La grande malinconia di Raffaele arriverà a fargli valutare seriamente l'idea di lasciare il suo lavoro e Diego noterà tutto questo. Il fidanzato di Ida rifletterà molto sul suo appoggio incondizionato alla ragazza e rimetterà tutto in discussione. A complicare la situazione ci saranno le continue pressioni di Roberto che farà di tutto per far esitare Diego dal proseguire la sua battaglia con Ida e ci riuscirà. Vedere l'indecisione in Giordano provocherà inevitabilmente una grande delusione nella madre di Tommaso. Per Roberto ci sarà l'ennesima vittoria. Come si evolverà la situazione a casa Ferri? Le trame non vanno oltre, ma non si esclude che tra Diego e Ida ci sia una forte crisi. Senza l'appoggio di Diego sarebbe molto difficile pensare che Ida prosegua da sola la sua battaglia contro il potente Roberto Ferri. Quest'ultimo vincerà ancora una volta? L'ipotesi che l'ingiustizia possa trionfare sarebbe remota, quindi è più probabile che dopo un periodo di crisi Diego torni sui suoi passi e con Ida riesca a mettere Roberto in seria difficoltà.